Grazie, grazie Presidente. Intervengo perché credo sia importante oggi denunciare una situazione ignorata evidentemente dal Governo, colpevolmente ignorata dal Governo. Ci sono centinaia di imprese, Presidente, che in questo momento stanno rischiando di fallire. E non perché non hanno lavoro, perché c'è la guerra, ma semplicemente perché il lavoro l'hanno fatto, l'hanno fatto in maniera corretta, l'hanno fatto nel settore dell'edilizia, con il super bonus e ora non riescono a cedere il credito d'imposta. Perché? Perché il Governo ha cambiato le carte, le regole del gioco in corso e oggi ha compresso la capienza del sistema, la capacità del sistema di assorbire questi crediti. L'ha compresso troppo. Ora, queste imprese si sono fidate dello Stato, hanno creduto in una misura e oggi non hanno liquidità da dicembre, rischiano di fallire dopo aver fatto i lavori. Credo che sia inaccettabile per uno Stato come il nostro. Ed è inaccettabile, a maggior ragione, dopo l'intervento di queste ore, con l'approvazione del decreto tagliaprezzi, in cui il Governo, che storicamente questo Governo non ha mai creduto nella cessione, oggi introduce la cessione per dare liquidità giustamente alle imprese energivore e gasivore, con un credito d'imposta cedibile. Ma la domanda è se nemmeno le imprese che hanno già il credito d'imposta cedibile in mano riescono a cederlo per colpa del Governo. Come facciamo a pensare che le imprese che oggi non riescono a pagare le bollette possono cedere la loro volta a quel credito? Siamo all'assurdo e stiamo rischiando di far fallire l'unico comparto che ha trainato l'economia nell'ultimo anno e durante il Covid. Io credo, Presidente, attraverso di lei spero di poter spronare questo Governo a cambiare rotta sul superbonus e sulla cessione e spero che lo cambi, cambi opinione e impostazione prima di arrivare a una nuova recessione economica come quella che io penso accadrà se andiamo avanti di questo passo. Grazie Presidente. La situazione è drammatica.